I loro abiti non devono aiutare, voi mi non dovete aiutare, non dovete aiutare, spingaglielo, non è giusto, non so se qualcuno mi porta davanti, volete stare qui di là, oh senti che me che si sta qua, ma metti su, va e va a ha, donne tenete con una mano l'omogenizzato, con l'altra il cucchiaino, le mani dietro la schiena, grazie, ragazzi, mani dietro la schiena, quando vedete che il vasetto è vuoto, lo prendete e vi alzate in piedi, perché devo capire chi lo fece prima, e hanno già cominciato lì, va bene, ci siamo col via, 3, 2, 1, via! Vabbè, no c'è tempo, no c'è tempo, non vedete a buscarlo, non vedete a buscarlo, vabbè, 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 vabbè! Voi! 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 Ha visto? Abbiamo visto noi dai! L'ho visto prima di me la torta via! Ma lo siete certamente loro scelta! No, Manu si è alzato dopo eh! Sì! Manu si è alzato dopo eh! Vai, vai, continua! Si è alzato prima! No, no, no! Andiamo a vedere il bar! Andiamo a vedere il bar! Andiamo a vedere la ripetizione! Toglietela, toglietela! Ehi! Abbiamo consultato già! Il video! Ho gli occhi sudati! Ho gli occhi sudati! Ho gli occhi sudati! Che che si è alzato? Bravissima! Ma... Ho gli occhi sudati! Ma noi abbiamo vinto ragazzi! Il bar non vale eh! Ma abbiamo vinto il bar! Ma che andiamo al bar! Chi ha vinto? Lui, lui, non giro! Ah, brevici! No, non mi ricordo! Applausi, applausi alla Bombia! Stoia nel cuento già! Telta del colmayo! Alis Premio ai premi! Premio vendite! Credo risilpractica! Cambiorno! Grazie.